Dopo la cerimonia ufficiale di proclamazione hanno incontrato il prefetto di Napoli Gerarda Pantalone e i 18 sindaci new eletti della provincia napoletana. Una riunione per augurare buon lavoro agli amministratori locali che si apprestano alla guida dei comuni per i prossimi 5 anni, ma anche l'occasione per conoscersi, ha sottolineato il prefetto, ed avviare un dialogo costruttivo, così come già fatto con il sindaco De Magistris, nell'ottica di una proficua collaborazione istituzionale.